Se ci si ammalava, c'era il medico del paese oppure un guaritore una volta? No, prima la menta, fa il tempo di prima, c'era il medico del paese, per esempio, la menta ha avuto il cuore per esempio, che avevano tutte le festerie, per esempio, che avevano un po' semplice, che prima funzionavano. Per esempio, che avevano un cuore 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 per esempio, ma per esempio, che avevano un cuore per esempio. questo è importante perché il medico è importante, ma anche se non è importante, ma si fa bambini, ma infatti si fa un medico tradizionale. Si, si fa un medico e il medico era il medico, ma si trovava come se fosse il medico, il medico era il medico, ma si usava anche il medico tradizionale di questo medico. soprattutto sui bambini magari per togliere un mal di pancia si faceva la cosiddetta vermenara così lo chiamano, giusto il termine oppure che ne so si faceva per il mal di testa il cosiddetto malocchio però se c'era qualcosa di grave comunque si raggiungeva il medico del paese grazie